Lavori in corso al centro islamico di via Kaorsana, dove i volontari stanno allestendo una stanza riscaldata con sei posti letto per fronteggiare l'emergenza freddo e offrire un riparo ai senza tetto. A chi è aperta questa accoglienza? Sicuramente a tutti, nel senso a chiunque abbia bisogno di un posto caldo e di un pasto caldo, insomma noi siamo sempre qui e siamo disponibili ad accogliere chi ha bisogno. E c'è anche un appello se qualcuno avesse del materiale da portare, che cosa serve? Attualmente servono coperte sicuramente, magari anche indumenti per il freddo, soprattutto giacche da dare a queste persone, insomma anche qualche volontario non ci farebbe male, anche se non è musulmano, insomma noi siamo aperti a tutti e anzi ci fa piacere vivere questa esperienza con tutti. Al centro oggi rappresenta anche Gianni Bonadè, anima della Ronda della Carità, che gestisce il rifugio Segadelli dietro la stazione. Da tempo l'associazione sottolinea la carenza di posti letto per l'emergenza e l'idea del centro islamico è proprio quella di rendere l'accoglienza più strutturale. Metterci in rete credo che sia un punto fondamentale e questo è stato il punto di partenza e ringrazio veramente di cuore anche Gianni Bonadè che ci sta supportando in questa piccola esperienza e ci sta dando anche appunto una mano abbastanza importante per poter realizzarlo nel miglior modo possibile. Il numero di riferimento per informazioni o segnalazioni di persone in difficoltà a causa del freddo è 342-1803-409.